Allora Gigi, due pari, tanti meriti alla squadra, sicuramente tanti rimpianti per come poi sono arrivati i due gol. Le domande, ti giro direttamente quella di Riccardo Perandini dell'Arena, che dice che è un pareggio storico comunque, però che cosa hai mancato dopo il doppio vantaggio? Ma loro hanno fatto un gol con un tiro di punta che è andato sotto l'incrocio, perciò è stato bravo, ma io un gol così non l'avevo mai visto, è stata una prudezza del suo giocatore. Il secondo è stato un rimpallo, si è trovato la palla lì, poi sto qua un giocatore fortissimo, Melchioris è girato, palo-gol, perciò mi sembrano due gol dove noi non abbiamo fatto errori, ma comunque due prudezze loro, perciò quando tu prendi i gol perché gli avversari sono bravi, ci sta. Ecco, questo risultato come lo, da che punto di vista lo vediamo? Bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto? Sicuramente mezzo pieno, noi intanto abbiamo dato continuità, abbiamo vinto fuori, penso che abbiamo parisato fuori con la scala più forte del campionato, non dimentichiamo che nel 95esimo abbiamo riuscito a fare un'altra gol ancora, insomma direi che abbiamo fatto bene. Motivi di soddisfazione, tanti, grande prestazione, insomma, abbiamo detto bicchiere mezzo pieno, sei soddisfatto ovviamente della prestazione, quello sicuramente. Sempre Riccardo Perandini, la nota lieta della partita è la nota stonata? Ma note stonate non ne ho viste, la nota lieta è che appunto siamo venuti contro una cuora assata, giocare alla pari senza paura, cercando di fare la partita fino alla fine, come va di modo a dire adesso, no? E attaccandoli alti, andando a pressarli alti, cercando di togliere il gioco, perciò bene in questo senso, insomma. Se posso, diciamo così dire io, tra le note lieta, sicuramente c'è il fatto che anche oggi la Virtus ha dimostrato la sua identità contro una squadra molto forte sul campo in trasferta, insomma questa è una squadra che ormai la sua identità e va avanti sulla sua strada. Esatto, proprio quello che volevo dire anch'io. Sibi, raccontaci tu quello che è successo in quei 4-5 minuti in cui siamo passati dallo 0-2 al 2-2, visto che tu li hai visti più da vicino degli altri probabilmente. Sì, secondo me loro sono forti, hanno pressato bene, alti, quindi abbiamo fatto nostro di difendere fino alla fine, però alla fine è andato così. Tu sei soddisfatto della tua partita? No, se vinciamo sì, però soprattutto questo ultimo gol che abbiamo preso sui ultimi minuti anche è una cosa che non mi piace di vederlo. Il pareggio comunque, ecco, è un risultato giusto o secondo te meritavamo la vittoria per come poi è andata la partita? No, secondo me meritiamo di più, perché stiamo vincendo 2-0, abbiamo tutti cose per portarlo a casa, quindi se finirà così 2-2, poi torniamo a campo e lavoriamo di più. C'è un po' di rammarico, ecco. Sì. Allora, Davide Marcandella, partiamo dal risultato finale, quanto rammarico c'è? E comunque è un risultato positivo questo su un campo difficile, ovviamente, che non ha bisogno di presentazioni. Sì, il rammarico c'è ovviamente a 10 minuti dalla fine in un campo contro una squadra così forte e attrezzata, diciamo che il rammarico sicuramente c'è. Alla vigilia penso che sapevamo di potercela giocare, perché possiamo giocarcela con tutti, però comunque è un risultato che a 10 minuti dalla fine ci dava forza, è anche tra virgolette un po' inaspettato. Poi comunque si sa che il calcio alla palla è rotonda, certo un po' di rammarico c'è, però comunque è sempre, non si può parlare di due punti persi, è sempre un punto che ci fa muovere la classifica e ci dà coraggio e consapevolezza per le partite prossime. Senti, nel frattempo tu hai segnato oggi il quarto gol tuo stagionale, diventi praticamente il capo canoniere della Virtus, è un po' una novità anche per te questa? Sì, sì, l'anno scorso ne ho fatto uno, l'anno prima zero, quest'anno diciamo che sta andando tra virgolette bene, quindi speriamo di continuare e di migliorare questi numeri. Senti, ci racconti velocemente il gol che ha sbloccato la partita e che porta ovviamente alla tua firma? No, è stato un, mi sembra ben ti voglio, abbia fatto un lancio e da Fara di testa gliel'ho chiamata, è stato molto bravo, me l'ha appoggiata, io non so, uno o due tocchi l'ho stoppata e dopo ho calciato, è stata una deviazione che ha messo fuori gioco il portiere e è entrata fortunatamente. Senti, l'ultima, quell'esultanza, l'avamo già vista a Fano, ce la vuoi svelare o resta un segreto? No, è semplicemente un gioco della Playstation, che gioco con i miei amici, che saluto, no, e quindi è un'esultanza un po' divertente per ricordare questo gioco, tutto qui. No, è semplicemente un gioco.